Tutto pronto per il concorso internazionale di dressaggio che domani farà il suo esordio in piazza maggiore sul terreno di gare allestito per la giostra per allungare l'atmosfera cavaleresca fino a fine settimana quando si svolgerà la giostra cavaleresca d'Europa e dei borghi più belli d'Italia. È una novità assoluta per Sulmona che fa crescere l'attesa. Il dressaggio è la più complessa tra le discipline olimpiche della federazione italiana sport equestri. È considerato il più alto livello di addestramento del cavallo. Sviluppatosi nel 500 in Italia e perfezionatosi nel 700 in Francia nelle categorie superiori le riprese, cioè le figure eseguite artistiche da cavallo e cavaliere, vengono eseguite in abbigliamento d'epoca. Ci sarà spazio anche per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che si subiranno sui poni. Il programma delle due giornate è così organizzato. Domani, martedì 31 luglio, alle 16.30 la partita di Orsball, una sorta di pallacanestro a cavallo, alle 18 il concorso nazionale di dressaggio, alle 20.30 il trofeo del cavallo iberico. Mercoledì 1 agosto, alle 16.30 ancora i poni, alle 18 il concorso nazionale, alle 20.30 il trofeo del cavallo iberico. Sulmona è l'unica città dopo l'esperimento di Napoli otto anni fa che si appresta ad ospitare una manifestazione del genere nel centro storico. Showmaster dell'evento sarà Mary Grimaldi che ha curato l'aspetto organizzativo per conto della giostra raccogliendo anche il sostegno dei commercianti. L'idea di questo trofeo nasce lo scorso anno dall'incontro tra l'istruttore Massimo Ciolli e Sulmona. Domani così si comincia.